Mistral d'Alfa, 10 Merisi fronte, 11 Mercurio d'Ete I più attesi sono Merlino M e Mistral B al betting, mezzo meccanico che adesso lascia i concorrenti Malin partenza numero 8, Missile dei Bessi, L'Ettano Moses Robb, che assume l'iniziativa nei confronti di Merlino M Moses a fare l'andatura ai primi 200 di corsa in 13-1 nelle altre vie sbaglia il numero 10, Risi fronte Moses Robb in vantaggio su Merlino all'argo Mistral B, poi Messi corsa cavalli che transitano il 400 in 28-8 con a tabellone il 9 Mistral d'Alfa Moses Robb in vantaggio su Mistral B, Merlino M, poi mondiale ok che precede non si arrocca, allargo Mercurio d'Ete 43-9, i615-1 di frazione allargo Mistral D all'interno Moses Robb in corda Merlino M poi mondiale ok, questi primi 4 quando si passa a metà corsa in 1 minuto 4-10 in una frazione il 16 e mezzo Moses leader in seconda posizione allargo sempre Mistral in corda ancora Merlino M che precede il mondiale poi il 3 Messico-Orso che a sua volta precede l'11 Mercurio d'Ete, 1-15-3 km, 14-9 di frazione Moses Robb in vantaggio allargo sempre Mistral B, in corda c'è Merlino da fondo gruppo però a migliorarsi il numero 1, Monsieur Rock cavalli che sono a tre quarti della piegata concursiva con Mistral e il mondiale che vanno sul battistrada, Moses Robb in corda c'è sempre Merlino M addirittura che arriva, Moses in vantaggio allargo c'è lo scatto di mondiale ok che va su Moses Robb, c'è il varco anche per Merlino lotta 3 per la vittoria, allargo si aggiungono anche Mercurio d'Ete e poi Moses Robb, c'è lo scatto di Merlino che va sul battistrada Merlino M che pazzo, Moses Robb e poi all'interno